Noi attraverso quest'azione politica degli accessi agli atti vogliamo entrare, visto che c'è una legge provinciale appena approvata, vogliamo entrare nelle cassaforti della provincia, cioè nelle società partecipate, perché il sistema messo in piedi dall'impero della I.M.C. concede a questo passaggio, chiaramente non ci permetteva come consigliere provinciale di andare, di entrare a capire effettivamente come venivano investiti i denari di Trentini. Allora abbiamo fatto oltre un centinaio di accesso agli atti in tutte le aziende di sistema, peraltro firmate dal sottoscritto dai miei colleghi, per riuscire a capire effettivamente come e attraverso quali meccanismi vengono impiegati i nostri denari. Ad oggi troviamo delle grandi difficoltà perché noi veniamo a sapere peraltro dalla stampa di alcuni investimenti, ad esempio uno per tutti l'investimento in alcune situazioni immobiliari che non ci tornano perché ci sono dei moltiplicatori che vorremmo chiarire.